Ok, allora chiedo ad Alfredo di leggere la motivazione per cui consegniamo la targa di Musica da Bere ad Assurdi Te. Allora, siamo molto felici di consegnare questa targa speciale Assurdi Te. Allora, consegniamo la targa Musica da Bere 2024 a Assurdi Te per aver saputo raccontare il presente e il futuro delle nuove generazioni attraverso testi e sonorità riconoscibili e mai banali, utilizzando una musica ricercata e sincera, donando una consapevolezza collettiva tramite la propria arte. Un applauso ad Assurdi Te. E la targa. Ecco ed ora la targa. E poi ovviamente Musica da Bere si chiama Musica da Bere non per niente, ci sarà anche una bottiglia di vino. Grazie mille, volevo chiedervi un applauso gigante per Musica da Bere che è da anni, che porta la musica emergente, indipendente sui palchi ed è una cosa bellissima, ho fatto una cosa bellissima. Grazie ancora per la targa e grazie. Grazie. Lasciamo allora cos'è che ci presenti questa sera? Mi presenterò alcune canzoni del mio ultimo album, che è anche il mio primo in realtà. si chiama Dumba e prima di presentarvi le canzoni live verrà trasmesso il cortometraggio che è legato all'album perché si tratta di un concept album, che è praticamente ambientato in un futuro distopico, che però è in realtà tristemente attuale, parla di attualità e della nostra generazione. Grazie. Grazie ancora e buona musica a tutti. Grazie. 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 Grazie.